Per molti anni ho considerato le mie sceneggiature una nuova forma di letteratura. Mi sono sforzato cioè di renderle qualcosa di diverso da meri libri di cucina con le ricette che devono essere seguite durante la lavorazione di un film. Per me le sceneggiature sono sempre state opere letterarie autonome. Le parole del regista Werner Herzog ci ricordano tre cose fondamentali per questo corso. La prima che cinema o letteratura probabilmente quello che importa è che stiamo raccontando una storia. La seconda è che è vero che le sceneggiature sono un po' come dei libri di cucina in cui all'interno ci sono delle ricette con delle regole ben precise e degli ingredienti ben precisi. La terza è che queste ricette ogni tanto possono prevedere degli ingredienti diversi quindi possiamo ogni tanto effettivamente rompere le regole. Lo strumento che ci aiuterà in questo viaggio un po' la nostra bussola sarà l'inquadratura ovvero cosa mettere dentro il quadro e così immagine dopo immagine costruiremo la vostra storia per il cinema. Io sono Giuseppe Bisceglia e vi aspetto al nuovo corso online della scuola Holden Inquadrature dal racconto alla sceneggiatura. Grazie a tutti! Grazie a tutti!